Ben trovati a tutti voi. Volevo trattare oggi un caso che mi sta molto a cuore, che riguarda l'attività processuale nei confronti di Equitalia e dell'agente della discussione e degli enti impositori. Mi sta molto a cuore perché io sono sempre stato un convinto assertore della teoria che Equitalia sia obbligata a stare in giudizio da solo e non ci sia la necessità di chiamare anche gli enti impositori, quantomeno nella gran parte dei giudizi. Si è formato sul punto, siccome ribadisco il concetto che il nostro è uno stato più formale che sostanziale, nel senso che nella maggior parte dei casi non si arriva a verificare se è un debito fiscale, sussisto o meno, ma ci si ferma a questioni di carattere procedurale, è importante capire quali siano gli elementi che impongono di chiamare in giudizio l'ente impositore o l'agente della riscossione. La teoria di carattere generale dice che quando si eccepiscono vizi relativi alla cartella esattoriale deve essere chiamato in giudizio Equitalia, quando si eccepiscono vizi relativi alla pretesa tributaria deve essere chiamato in giudizio l'ente impositore. In realtà, stricto senso, non è proprio così il concetto, perché se noi andiamo a guardare la normativa di riferimento, Equitalia deve rispondere all'interno del giudizio dell'obbligazione indipendentemente dalla presenza dell'ente impositore. Ci sono dei casi in cui, come l'avviso bonario nascente da dichiarazione, in cui è il contribuente che ha interesse a chiamare in causa l'agenzia delle entrate, ma in realtà sugli atti impositivi questa esigenza non c'è. La norma è chiarissima, l'articolo 39 del decreto legislativo 112 del 99 che è sulla istituzione e sul funzionamento del concessionario e la riscossione quindi di Equitalia dice è chiamata in causa dell'ente creditore. Il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, nel qual caso ovviamente è fisiologicamente legittimato passivo Equitalia, deve chiamare in causa l'ente interessato in mancanza risponde delle conseguenze della lite. Il concetto qual è? Equitalia è soggetto obbligato sempre e comunque, la norma dice che se non vuole soccombere all'interno del giudizio perché non ha elementi per contrastare la pretesa impositiva, è obbligato automaticamente alla notifica di un atto a chiamare in giudizio l'ente impositore, non è obbligato a farlo il contribuente. Sotto questo profilo, le sezioni unite della Cassazione, con una sentenza che secondo me è stata molto trascurata nel tempo ma che ha un'incidenza molto importante, ribadisco, le sezioni unite sono state chiare nel sostenere questo concetto. La sentenza è la 16.412 del 25 luglio 2007 addirittura, quindi affonda le sue radici a 10 anni fa. Dice la Cassazione, se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione e dell'avviso di Mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus soluzionis causa e qui richiama la Cassazione 21.222 del 2006. Se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito, quindi è Equitalia che ha l'obbligo di chiamare l'ente impositore in giudizio. In ogni caso, l'avere il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei confronti di dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta attraverso il concessionario, onere che tuttavia grava su quest'ultimo, senza che il giudice ha dito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio, quindi la sentenza è pacifica nel sostenere che debba essere Equitalia a chiamare in giudizio l'ente impositore, se no comunque risponde alle conseguenze negative della lite. Consentitemi di dire, siccome Equitalia ha un'attività di carattere contrattuale con gli enti impositori che le passano i ruoli, secondo me qualora non lo facesse avrebbe anche una responsabilità di carattere contrattuale con obbligo di restituire le somme all'ente impositore per una responsabilità di questo tipo. L'argomento mi sembra molto interessante, ci ritorneremo nel caso in cui ci fossero pronunce interessanti sul punto. Io per oggi ho finito, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. L'argomento mi sembra molto interessante, ci ritorneremo nel caso in cui ci fossero pronunce interessanti sul punto.